Lo sapevi che è possibile creare una medaglietta per i nostri cani e gatti? Ecco come! Ehi Yuko, fermo! Ma che fai? Ma non si mangia! Prima di tutto versiamo 25 grammi della nostra resina all'interno di un bicchiere. Aggiungiamo poi 15 grammi di un catalizzante che sarebbe di indurire la nostra resina. Mescoliamo poi lentamente le nostre due miscele. Prendiamo poi uno stampino a forma di medaglietta e versiamoci all'interno il composto ottenuto. Infine decoriamo la medaglietta aggiungendo le lettere del nome del nostro cane. Possiamo anche aggiungere un po' di colore, o in questo caso di glitter, alla resina avanzata che poi andrà colata all'interno dello stampino. Aspettiamo per qualche ora che la resina si indurisca. Ed ecco il risultato finale, questa è la medaglietta di Yuko. Vi piace? Beh, a lui sembra proprio di sì.